Siete pronti? Porca miseria, non sto facendo scena, è veramente pesantissimo, siete pronti dicevo? Avete voglia di capire cosa c'è qua dentro? Un amico, anzi due, due, hanno già fatto, aspetta che lo poso, porca miseria, hanno già fatto un unboxing di questa serie, eh, ora tocca a me, ora tocca a me, benché la conosca molto bene, benché in realtà, poi vi spiegherò un pochettino meglio, ero già in possesso di questa serie, ho voluto riacquistarla. Sono pazzo, sono pazzo. Allora, prima di tutto capiamo perché acquistare una serie che uno ha già in libreria. Le motivazioni sono mille, me ne vengono due. La prima, amo alla follia quella serie, la voglio in tutte le edizioni possibili, immaginabili, e quindi qualsiasi cosa che esce di quella roba là, benché io abbia già le storie, me la ricompro. Non è il mio approccio, non è mai stato il mio approccio e probabilmente non lo sarà mai. Ricordo perfettamente che sono andato in fumetteria Pop Store quando ho detto, ma dimmi che manga è uscito, voglio comprarmi un manga shonen proprio per Full Metal Alchemist, uh, fichissima una nuova edizione, io ce l'ho in tutte le edizioni, belle, brutte, alte, basse, mi ricomprerò anche questa, quindi qualcuno veramente, se ama alla follia una storia, se la rilegge più e più volte, ma acquistando le nuove edizioni. Ecco perché ad esempio nei manga escono le edizioni deluxe, complete, kansban, ciccio pasticcio, va bene. La seconda motivazione è perché magari la prima edizione, quindi l'originale, è distrutta, fa schifo, non si legge, si strappano i fogli, insomma, non è qualitativa, e allora uno ne compra un'altra che invece è al bacetto. Ci aggiungo una terza possibilità che è molto vicina alla seconda, cioè, o di buchi, cioè la mia collezione non presenta tutti i numeri della serie. Giusto o sbagliato? Possiamo discuterne per due ore, però è possibile che questo avvenga. E quindi uno dice, ah, ho trovato una bellissima offerta in blocco, cosa faccio? Mi compro la serie completa della nuova edizione, della ristampo, della vecchia edizione, insomma, di quello che mi pare e piace, a seconda di quanto volete spendere, e vado a sostituirla con la mezza serie, quella incompleta, insomma, oppure addirittura posso andare a scegliere il volume con la costina fatta meglio, quella tutta perfetta, se c'è un volume con le pagine che si strappano, ecco, quello lo vendo, lo butto, lo regalo e lo vado a sostituire, eccetera, eccetera. Nel mio caso siamo, boh, così, una via di mezzo un po' di tutte le cose che vi ho raccontato. Avevo, mi sono innamorato follemente di questo personaggio, poi vabbè, a breve lo vedrete, anzi, metà di voi sanno già di cosa sto parlando. Mi sono follemente innamorato di questo personaggio e quindi ho cominciato a comprare sui Longomare di Ceriale, piuttosto che, insomma, nella Toscana, qualche volumetto ristampato, addirittura anche riproposto nelle edicole, nei chioschetti, con quei classici box da 2, 3, 4 volumi western e quant'altro. Ecco, mi sono appassionato e poi ho detto, ah beh, capperò però, allora, andiamo a comprare l'edizione originale. Ho fatto anche un video io, non so se avete voglia di recuperarvelo, a suo tempo ve lo metto lì, altrimenti comunque sul canale lo trovate, no? La mia ossessione per l'originale, cioè, Sergio Toppi, vado a comprare i volumi borsurati, strafighi, carta pattinata, lucida della NPE, oppure vado a prendere le primissime edizioni dove lui pubblicava le sue storie su altre altre, in cortomaltese, ognuno può scegliere quello che vuole, io desideravo andare a prendere la prima edizione, la prima uscita di ogni singola storia e anche in questo caso, per questa serie, volevo andare a recuperare tutti quanti i volumi della prima serie. Primo, parliamo di 59 volumi, così già gli esperti sanno di cosa sto parlando, non sono pochi. Secondo, ogni singolo volume costa 2, 3, 5, 10, 15, 25 euro. E poi avevo già tanti volumi, dovevo solo andare a completare la mia collezione. O comunque, oggi ho non solo la possibilità economica di comprare una collezione a serie completa tutta insieme, ma quando ero più piccolino questo assolutamente non poteva avvenire, quindi il mio impeto era sempre acquistare il singolo volume, dove trovavo l'occasione, o magari 3, 4, 5 volumi in blocco, ma non stiamo parlando della serie completa. E quindi quando poi ti trovi, non so, 30 volumi su 60, cosa fai? E non compri la serie in blocco, no? Vai a cercare, uno stolicidio sta roba, quindi non la consiglio a nessuno, però vai a cercare i numeri, no? Per fare il tuo completamento. Ripeto, non lo consiglio a meno che non abbiate voglia di andare a scartabellare nel mercatino dell'usato, anche quello un po' poetico, molto romantico, è un approccio che faccio oggi con alcune serie tipo quella di Giulia, tipo le storie, quello mi diverte proprio farlo, ma in questo caso assolutamente, poi scoprirete, non ve lo consiglio, no. In questo caso bisogna comprare la serie completa, punto. Scegliete voi l'edizione preferita, che sia la prima, che sia la ristampa, o che siano tutte le ristampe successive, decidete la vostra edizione e l'acquistate, punto. Cosa ho fatto io? Io ho acquistato la serie oro, e adesso dai ve lo dico, stiamo parlando del mitico Ken Parker, fighissimo personaggio, meraviglioso, se non lo conoscete vengo a casa vostra a raccontarvi di cosa stiamo parlando, della poesia creata da Berardi, disegnata e acquerellata dal mitico Milazzo, e poi non solo, ci sono moltissimi altri disegnatori che io ho qui conosciuto, Amato, Ambrosini, Trevisan, vado alle ciance, torno al discorso. Il mitico Ken Parker ha acquistato la serie oro, in blocco, ha avuto una bella occasione, e qui, ma bella bella, fidatevi, ho speso veramente poco rispetto a quello che immaginavo. Oggi la trovate minimo dai 100 ai 120, insomma, in su, quindi come se pagaste più o meno 2 euro a volume. Io invece ho pagato molto 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 poco, perché non è perfetta con la P maiuscola, cioè ci sono delle macchioline della vecchiaia, qualche pagina è assolutamente ingiallita, l'ho aperta oggi, eh, guardate, cioè non è che è da due ore che sono qui con tutti i volumi aperti e scartabellati, no, l'ho aperta oggi e per la prima volta vi sto facendo vedere i volumi, quindi anche io non li ho visti uno per uno, ma già si vede che non è una serie meravigliosa. Già ben scritto nella descrizione, a me andava bene così, il prezzo e il livello di qualità mi andavano a soddisfare. Che cosa ho fatto ovviamente però? Tutti i volumi serie oro e anche serie originale sono andato a venderli, sono andato a venderli, alcuni li ho scambiati, quindi do dei fumetti vecchi, mi prendo dei fumetti nuovi, altri invece proprio li ho sostituiti, altri invece li ho proprio venduti. Basta, ciao! Ci ho guadagnato? No! A fare questa roba qua uno non ci guadagna, al massimo non ci perdi troppo. In questo caso io ho sempre acquistato, facendo delle belle, so, prendendo delle belle occasioni, quindi vendendo i miei volumi, scambiandoli e quant'altro e acquistando questa serie a un prezzo decisamente abbordabile, alla fine è come se fosse andato in pari. Ho fatto un po' pace con la coscienza e col mio cervello, mi sono rassegnato all'idea di andare a prendere la prima serie, serie originale, perché i fogli sono altro che ingialliti, scollati, si strappano, la lettura sarebbe veramente un disastro. E quindi non solo così facendo ho la serie completa del mitico Ken Parker, aggiungo che tra l'altro, se non lo sapete, la prima serie è fatta da 59 volumi, mentre questa serie presenta il numero 60, un principe per norma, speciale 132 pagine, il numero 61, dove muoiono i titani e un arito di ghiaccio, e il fantastico, il respiro e il sogno, guardate chi acquerelli, muto, senza balloon, il numero 62. Quindi non solo ho la serie completa, con gli ultimi tre numeri speciali e quant'altro, ma ho l'occasione di rileggermi la serie. Me la rileggerò, farò una full immersion, un po' come ha fatto Iaio, non so se avete visto i suoi video, ma comunque lui presentava spesso un video lettura con 10 Ken Parker alla volta, qualche numero meraviglioso, qualche altro magari poco meno piacevole, ma è stato bravo a recuperare molto velocemente anche la lettura di Ken Parker. Io farò più o meno la stessa cosa, ma poi in più il grande valore aggiunto di questo recupero è che ho deciso di regalare questa collezione a mio padre, perché andrà a finire proprio a casa sua, non vedo l'ora che lui possa leggere Ken Parker e magari se ne possa un po' parlare insieme. Quindi anche lui andrà a rileggersi le avventure del Vindico Ken. Cosa ne pensate? Bravo, stupido, intelligente, un approccio corretto, un approccio sbagliato. Ho fatto così, ho deciso, io sono sereno, sono contentissimo, ma sono un po' curioso di sapere cosa ne pensate, cosa avete fatto voi quando avete acquistato Ken Parker, come l'avete acquistato, con che edizione, nell'ultima, nella prima Mondadori, con l'ultima cartonata fichissima, quella colorata che fa cacare. Fatemi sapere, sono molto curioso. E se invece non conoscete il Ken Parker, prendete spunto da questo video ragazzi, cercate un'occasione, mi raccomando serie completa, cercate un'occasione e portatevela a casa e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video, grazie, ci leggiamo nei commenti. Ciao belli! Ah ma non ve l'ho fatta vedere, vabbè, insomma, sono volumi, eccola qua, eccola qua, adesso me la guardo bene, me la guardo bene e poi ve ne parlo, ve ne parlo, ve ne parlo. Guardate quanti volumi, guardate che roba, guardate che copertine, guardate che roba, questa roba qua, oggi, oggi, la computer grafica non ha questa poesia. Ciao Ivo, grazie.